oh cazzo qua non so quanto sia buono che bug i twin non sono giocabili i twin diventano ingiocabili dopo un po' se hai il range sbagliato diventa letteralmente ingiocabile vediamo quanti crash hanno dopo che mi chiedono so che ce n'è un altro lì indietro fuck ho provato ho sperato nice ok uno siamo riusciti a prenderlo dopo che abbiamo vintato anche due persone quindi comunque si doveva inforare gli abbiamo fatto perdere un po' di tempo ma se era un pc buono per dbd beh abbastanza sta mappa l'odio anche io completamente per dbd si ti sarei un pc abbastanza decente ci puoi giocare anche con quelli un po' scarsi però ci giochi ovviamente a una grafica molto peggiore eccetera eccetera ciao aral buonasera benvenuto come stai da un po' che non ci si sente vorrei sentire un generatore torno dalla tomba quello speedino che hai messo adesso si chiamerà roberto il punginatiche perché roberto proprio uh sprint burst andiamo un calcio al gen per nostri perk nice perfetto il blink nice let's go il blink indietro lo adoro il blink indietro per tornare indietro che ti rida un blink è veramente uno degli add-on che mi piace di più sulla nurse ora sono tornato cosa c'è stato cosa è successo aral racconto se vuoi noi siamo qui l'anno vediamo un bel calcio anche questo gen ok nowhere to hide uh quasi l'altro mi sa che la distortion questo cazzo ti baghi cretino essendo 4.4 posso anche camminare uh si è incastrato possiamo anche camminare tra l'altro quindi è troppo comoda sta cosa pranko pungi culo ospedino di bd bella nuova musica della nurse a me non mi fa impazzire non è molto divertente la nurse è sempre la nurse hanno cambiato solo il modo di giocarlo secondo me è più divertente onestamente adesso ha molto più devi outplayare molto di più con gli add-on cioè io sto giocando con un blink e onestamente con la velocità eccetera mi ci trovo anche molto bene metti no head beh no head aiuta molto all'inizio per imparare anche il gioco beh mi ha dato un free hit in pratica cioè poi in questa mappa il 4.4 è veramente comodo il 4.4 in questa mappa è perfetto io non la riesco a giocare Mattix sei da pc o da console? franco fa male ma è giusto così avevo un fantasmino di fianco al nome prima eh no da console si da console è un giocabile Mattix tu hai presente il fantasmino di Haki? no non so di cosa stiamo parlando ragazzi ho fatto un blink male comunque i blink sono i blink se sai blinkare con la nurse no mi sono incassorato eh il problema di questa mappa è solo questo quanto è difficile blinkarsi vabbè questo si fa camminare addosso sapete che c'è? eh esatto avevo sentito stiamo facendo il jam qua lo calciamo e comunque recuperiamo subito infatti è molto forte secondo me sta build con lei perché tanto ti puoi fermare a calciare il generatore perché con nowhere to hide puoi recuperare molto velocemente sul survivor certo a capire dove cazzo sta andando quanto consigli di prenderlo? ah se ti devi comprare un computer ti consiglio se hai la disponibilità economica di prenderlo di una fascia comunque medio alta perché un computer di fascia alta te lo tieni per tranquillamente secondo me 4 anni per 4 anni stai tranquillo senza problemi se te lo prendi invece di fascia bassa magari spendendo anche 400 diciamo che what? com'è che non l'ho hittata? non ti dura così tanto come ti potrebbe durare perfetto c'è anche chi spende meno spend sì però dove lo trovi? 400 eh devi comprarti i pezzi devi capire i pezzi giusti da comprarti adesso ah ma quella è la posta muri oh mori let's go che brutto è il mori che va in prima persona padre signorina ehi la testa nel muro però no dai dai fai che ma il tuo no l'ho fatto montare da mio padre perché è un tecnico quello che sa farlo bene aspetta un attimo quanto è forte ma c'è qualcuno che si ricorda della vecchissima copia di dbd per telefono di nome no io non lo conosco ah anche lui è moriabile dai su è fermo questo muore decisamente deve rifarsi al muore più brutto ormai il mori non ha più senso stai più tempo a farlo lo so lo so francesco però tanto il tempo ce l'ho quanto sgrava un over to hide in mappe chiuse completamente ma poi con la nurse è gravissimo secondo me sta build ragazzi è una delle migliori è una delle migliori è proprio una delle migliori build anche perché puoi tranquillamente camminare e cammini a 4.4 e comunque è un fucking blink che se ti counter andranno tornando indietro puoi tornare indietro col control nowhere to hide in che top lo metto in che senso in che top lo metti di c di fear della build del perk uh ah c'ha light maledetto lo stavo per rittare se non avesse auto light è andato su no che non è andato su perché ci faccia vedere le sue sono completamente perso no ehi te l'hai trovata a casa se tornasse un po' indietro ci provassero almeno vorrei esingato per cercare di arrivarci non torna indietro questo non ci provo a tornare indietro nice very fucking nice questo andiamo se facciamo vedere la tipa con nowhere possibile cioè si è allontanata così tanto o non mi è croccato nowhere wide per qualche ragione sinceramente se di base la nulsa sarebbe 4.4 non solo blink non è neanche così tanto più come quella che abbiamo anche post nerf post nerf onestamente si sente il nerf night ma rè io la trovo molto più divertente anche da giocare così partiamo da questo per il posto io la trovo più divertente da giocare non tanto più forte però si il nerf si sente e la possibilità di non avere la riduzione di infatti stavo dicendo la riduzione di blink è tanta roba il blink cooldown è tanta roba non poterlo avere penso di arrivarci ok la gioco so che rimane rotta sento il nerf ma comunque si meno p di prima quello è sicuro meno p di prima sicuro no 4.4 è 110 aral è 110% ma infatti 4.4 è tantissimo ma secondo me lo nerferanno al matchbox lo metteranno a 4.2 perché 4.4 è troppo si esatto bravo si è tantissimo si è una feature quella di Victor Biccato grazie a linf di che la nurse secondo me giocata così è uno divertente perché mi piace perché dai un misto fra chase e hai un gen defense della madonna perché comunque puoi recuperare over to hide call of the brine dear nurse do you have an hamster why meglio per noi eh sì yes or no no mi ha chiesto se è un criceto do you want one no ho un gatto e sarebbe mangiato lo scopo è divertirsi e vincere sì ma c'ho nel senso il molise il molise non ti volevi dire I'm going to steal your cat sì